Oggi parliamo di avvocati, questo è il dubbio giornale degli avvocati, ogni tanto parla di avvocati, c'è una notizia che può sembrare secondaria, ma che invece secondo me è molto importante, per la prima volta nell'ambito del G7, sapete che si riunisce in Italia il G7 e per la prima volta in Italia accanto al G7 politico ci sarà un altro G7, il G7 delle avvocature, le avvocature dei 7 paesi più importanti del mondo che partecipano al G7 si incontrano e discutono dei problemi della giustizia, non è mica una cosa da niente, perché noi viviamo un periodo in cui il ruolo dell'avvocato viene sempre di più maltrattato, vi li peso, abbiamo visto anche con la vicenda di Alatri, gli avvocati vengono confusi con gli imputati, passa l'idea che un avvocato debba essere un giudice quasi, stabilire prima può difendere alcuni imputati, non degli altri, passa l'idea che quasi che l'avvocato debba difendere solo se è certo dell'innocenza dell'imputato, mentre è esattamente l'opposto, lo Stato di diritto si basa sulla forza di un'avvocatura libera e indipendente che garantisce a tutti il diritto di difesa, il diritto di difesa non è il diritto a dimostrare la propria innocenza, è il diritto a difendersi, non è un diritto che spetta solo agli innocenti, ai buoni, ai non colpevoli, spetta a tutti, solo in questo modo una società davvero diventa una società di diritto dentro uno Stato di diritto, un altro tipo di società, la società che distingue già a prescindere fra colpevole e innocente e che pensa che l'esagerazione della pena sia la soluzione dei mali sociali e sia l'affermazione della giustizia, non è una società di diritto, è una società etica, è uno Stato etico, noi abbiamo avuto delle brutte esperienze in Europa di Stati etici, ne abbiamo avuto nel Novecento, l'Unione Sovietica è stato uno Stato etico, la Germania di Hitler è stato uno Stato etico e anche qui da noi l'Italia di Mussolini era uno Stato etico, Stato etico vuole dire dittatura, sopraffazione, fine del diritto, morte, contro lo Stato etico la forza principale che c'è è la forza degli Avvocati, sono l'aggregato intellettuale e sociale e politico più forte che c'è ed è assolutamente necessario, soprattutto in questa fase storica nella quale le spinte populiste vanno esattamente in quella direzione, in quella dello Stato etico, ma lo Stato etico è la rovina, il disastro, è la negazione della modernità.